4 per 400 maschile, Licciardello, Galletti, Fontana e Vistalli, una buona prestazione, una staffetta azzurra che sarà in finale domani. Quali sono le impressioni? Partiamo da Claudio Licciardello. No, siamo contenti, oggi c'era da centrare il passaggio in finale, ci siamo usciti abbastanza bene, domani sicuramente sarebbe ancora più forte. Poi dal mattino non è facile per nessuno, per cui domani... Poi abbiamo visto scarti molto vicini tra le squadre. Siamo tutti lì, i tempi sono tutti sui 3.04, quindi siamo veramente ferriciosi, possiamo giocarci. Ragazzi, qualcuno vuole dare un appuntamento speciale agli appassionati italiani? Sì, sì. Per domani. Io penso che, innanzitutto, noi possiamo migliorare, domani ci saranno in pista solo degli uomini, nessuno è un robot, per cui possiamo dire la nostra. Un altro, due parole per tutti. Io direi che, di qua tutti, domani guardatevi la nostra 4x4, perché sicuramente sarà una bella gara combattuta e vi divertirete. Tra l'altro ci sono un po' più di italiani in questi giorni qui e potrebbero fare un po' di tifo in più per questi ragazzi. Domani vi aspettiamo anche qua allo stadio. Le bandiere italiane, il tifo, noi li vediamo, ci fanno un gran piacere, ci fanno andare ancora più forte. Allora ragazzi, in bocca al lupo, l'appuntamento per domani, ci vediamo. Seguiteci, ciao. Ciao.